buongiorno dalla piscina io sto ancora dormendo in piedi sono venuta in piscina proprio per provare a svegliarmi quindi ora mi faccio un bel bagnetto e po di relax oggi è lunedì sono le 11 11 e mezza circa c'è un sole bellissimo oggi infatti fa caldo e ora mi vado a mettere la crema perché qui a fuerti ventura se non ti metti la crema tutto il giorno almeno da 50 rischi che torni a casa e sei abbrustolito dal sole ma meglio così la notte appunto ho dormito bene ma mi sono svegliata prestissimo infatti ho visto l'alba bellissima è per carità stupenda però preferivo vederla un altro giorno però ecco sono stanca ma mi riprendo mi riprendo ora bagnetto d'obbligo fatemi sapere soprattutto sotto nei commenti se vi stanno piacendo questi video che cosa mi raccontate mi sta piacendo questa versione di veronica a fuerteventura comunque vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto grave errore gravissimo recuperate subito e se volete mi potete seguire anche su instagram mi trovate con il nome di veronica appunto latini e anche lì vi tengo aggiornati su questa esperienza canaria ora trovo il coraggio di buttarmi dentro l'acqua sperando che faccia bene anche a queste occhiaie che ho questa mattina beh ci vediamo dopo vado a buttarmi un tuffino scimmio ola buenos dias oggi è 27 ed è mercoledì io sto andando al pueblo ovvero al centro ieri giornata tranquilla ero stanchissima mi sono riposata più o meno perché più che altro sono stata a lavorare sul computer quindi ho fatto varie cose sul computer poi sono andata un'oretta in piscina che bello verso le 5 e mezza bel bagnetto anche perché ieri faceva un caldo dentro casa pazzesco che non c'era vento oggi invece c'è abbastanza vento e ieri sera finalmente ce l'ho fatto sono andata a letto alle 11 e mezza quindi mi sento anche un pochino più riposata tranne che mi sento un po così e così perché sono in preciclo che bello bellissimo sempre una situazione meravigliosa quando viene e comunque oggi devo fare un bel po di cose e spero di riuscire a portarvi con me se no ci rivediamo magari nel pomeriggio comunque sono le 10 e mezza c'è un sole meraviglioso che bello adesso sto andando a prendere di nuovo il monopattino ci riproviamo per la seconda volta comunque la prima volta è andata bene dai quindi sento bella carica per riprenderlo comunque dai sono pronta inizio questa giornata quindi basta e l'eco ci vediamo dopo ciao solino e questa è sempre la vista appena esco da casa sono tornata eccomi qui sto mangiando in una piazzetta eccomi questa è la situazione attuale sono stata al supermercato ho preso giusto qualche cosina così veloce un po di gallette ovvero tortillas de arroz cheso non lo so non mi chiedete che cos'è ho preso la prima cosa che ho trovato perché in questa insalata che tra l'altro l'unica insalata senza forchetta l'ho beccata io top topissimo e quindi mi sono arrangiata così oggi è andata così non fa niente e prima mi sono ho mangiato anche un po di melone quello bianco che mi piace da morire e questa mattina ho fatto un po di giri ho girato molto anzi no un po togliamo un po ho girato tanto non so se ho già detto che è l'1 e 40 sta sotto il sole ma fa niente almeno prendo pure un pochino di sole prima col monopattino è stato devastante perché c'era così tanto vento che non ce la potevo fare comunque si sta scaricando la batteria della videocamera e non ho portato l'altra batteria bravissima veronia in questi giorni rega scusatemi ma sto facendo 3.800 cose insieme penso 3.800 cose insieme che tanto mi scordo i pezzi comunque ora continuo a mangiare e poi magari vi faccio vi aggiorno dopo quando sono a casa intanto vi faccio vedere un attimo al volo questa piazzettina carina dove mi sono firmata va bene io mangio eccomi tornata qui da voi sono in cameretta nella mia cameretta come potete vedere anche oggi non mi sono risparmiata ovvero mi sono spremuta come un limone e infatti come si può vedere sono stanchissima sempre le occhiaie onnipresenti ciao amiche care e i miei capelli sono sempre questi infatti rivedendo i video scorsi cioè mi sono detto ma con che capelli mi sto presentando nei video ma chi se ne frega cioè alla fine sto a forte ventura il vento ci sta ci dovrò convivere quindi pazienza i miei capelli saranno questi e quindi dicevo questa mattina appunto non mi sono risparmiata sono uscita alle 10 e mezza sono andata con il monopattino sono arrivata fino al centro di coraleco e lì ho fatto tutto il giro del centro anche oggi ho camminato 10 chilometri però sono stata molto produttiva ovvero ho fatto ciò che mi ero prefissata di fare e poi ho scoperto sempre di più la città mi sto ambientando sempre di più sto riconoscendo i vari punti le strade i locali tutto quanto insomma è sempre bello scoprire a poco a poco qualcosa di più capire a poco a poco che divento sempre più esperta diciamo sto qui da una settimana ma in una settimana devo dire che sono molto fiera di me stessa di quel che ho fatto anzi a proposito ieri è stata una settimana esatta che sono qui a forte ventura qui a coraleco e se ci penso non ci credo perché ancora non me ne capacito ancora non me ne rendo conto e appunto perché sto facendo veramente tantissime cose insieme il mio cervello sta impazzendo cioè mi scordo anche le cose se non mi faccio la lista delle cose che devo fare mi perde pezzi per strada e dicevo quindi mi sono fatta un giro per tutto il centro alla fine sono tornata a casa alle 3 e mezza ora sono le 6 meno 10 voi siete in vacanza dovete andare in vacanza siete andati già in vacanza vi siete abbronzati dove siete restati di bello insomma raccontatemi qualcosa di voi qui sotto nei commenti sono curiosa di sapere se avete visitato qualche bel posto oppure se vi aspetta un bel posto da visitare sentite il vento di fuori oggi c'è un vento pazzesco infatti io oggi ho scelto come al solito la giornata sbagliata per uscire perché questa mattina quando ho preso il monopattino sono stata travolta dal vento e anche camminare per il centro in mezzo al vento è stato bello che devastante quindi dicevo nel video scorso vi ho lasciato che era domenica che era andata a cena fuori a mangiare quella grigliata di pesce pazzesca mentre che sto editando il video e sto vedendo di nuovo quella grigliata c'ho troppa voglia vabbè troppo buona vabbè non ci pensiamo quindi dicevo lunedì però mi sono svegliata veramente rincoglionita si vede che il ron miel se non sbaglio si chiama qui un ammazzacaffè quindi un amaro qui tipico di Fuerteventura molto forte che avevo già provato lo scorso anno e me lo hanno offerto al ristorante ben due ciupiti sono andata in piscina per riprendermi per farmi un tuffetto una notatina cioè notatina per quanto io possa notare quindi sono stata lì un'oretta un'oretta e mezza mi sono rilassata mi sono un po' ripresa poi sono tornata a casa ho pranzato e poi pomeriggio qui a casa cioè sono rimasta nella mia cameretta a lavorare al computer tutto il pomeriggio e la sera però sono uscita dopo cena mi sono fatta una passeggiata di una mezz'ora qui nel quartiere quella fa sempre bene io amo passeggiare e poi dopo che stai tanto a casa o comunque seduta per me è fondamentale sgranchirsi un po' le gambe non so voi e anzi se non lo fate iniziate a farlo perché è rigenerante per il fisico ma anche e soprattutto per la mente e poi nel mentre che passeggiavo ho pensato tanto cioè proprio lì ho detto fermaci un attimo ti rendi conto che stai qui a Fuerteventura? ti rendi conto di tutto quello che hai fatto in questa settimana? no sinceramente no e infatti mi sono messa lì a pensare a ragionare a stupirmi di tante cose è bello è bello passeggiare ed è bello comunque stare del tempo con se stessi nei propri pensieri quindi andare ad analizzare le proprie giornate o la settimana trascorsa cioè non fate passare la vita così come senza che neanche ve ne accorgesse di tutto quello che state vivendo cercate di essere coscienti di voi stessi, del vostro corpo, delle vostre sensazioni, delle vostre emozioni delle persone che incontrate, ciò che vi fa stare bene, ciò che vi fa stare male siate consapevoli non lasciate che il tempo scorra così e voi neanche ve lo state godendo o anche se non ve lo potete godere però che non lo percepite poi invece martedì mattina mi sono svegliata a bella carica per allenarmi infatti mi sono fatta un allenamento qui nella mia cameretta, ci voleva proprio perciò ecco ieri pomeriggio dopo essere stata qui seduta sulla mia scrivania a lavorare dopo cena sono uscita con la bicicletta e sono andata alle 9 e mezza a fare la spezza a Mercadona qui vicino perché dovevo riprendere l'acqua, poi in più avevo anche voglia da ciclo che dovevo assolutamente soddisfare perché mi stava proprio rodendo quindi ho detto no, ho bisogno di uscire perché poi tra l'altro mi era preso un mal di pancia incredibile la stanchezza mi stava invadendo testa, corpo, anima, tutto quindi ho detto ok Veronica non è il caso di farti prendere da rodimenti non è il caso di farti prendere da malesseri mi fa male la pancia, mi rode, ho i miei pensieri, ok va bene respira un attimo, vestiti, esci nonostante appunto avessi mal di pancia mi ha detto no, non mi importa se mi sento male per strada non fa niente ma sicuramente non avverrà quindi sono salita in bici e mi sono girata il supermercato alle 9 e mezza di sera però è stato bellissimo, è stato rigenerante, mi sono tranquillizzata ho preso le mie cosine, ho preso un po' di schifezze ed ho preso una cosa che ora vi devo assolutamente far vedere ecco qui cosa vi dovevo far vedere ieri sera tra le mille voglie che mi erano venute mi era venuta anche voglia di Bayliss ovviamente non è il vero Bayliss ma ho trovato un valido sostituto buono che buono ma dai come si fa a vivere senza Bayliss e infine per quel che riguarda la giornata di ieri sono andata a letto presto per le 11 e mezza ero cottissima ma sono stata soddisfatta di me perché sono mesi ormai che dico devo andare a letto presto oggi devo andare a letto presto oggi sì ma quando non ci riesco mai invece ieri sera sì grande conquista mi hanno fatto bene stamattina mi sono svegliata alle 8 bella carica colazione e sono uscita e il resto della giornata ormai la sapete io ora finisco di editare il video e poi fra poco vado a cenare giù di sotto e forse mi prendo anche un goccettino piccolino di vino vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e anche di seguirmi qui sul mio canale youtube e anche su instagram mi trovate con il nome di veronica.latini questo video è giunto al termine ma ci vediamo nel prossimo video io vi mando un bacione gigantesco e come sempre un immenso raggio di sole grazie a tutti